ciao a tutti oggi vediamo come scrivere un nome un po carino su una tavoletta di legno e fare una decorazione un regalo originale e personalizzato la decorazione la farò con lo stencil mentre ho scritto i nomi delle persone a cui regalare questa tavoletta decorata con il computer una volta stampato il nome lo riporto sul legno con la carta carbone naturalmente prima ho lisciato bene il legno con della carta vetrata fisso anche il pezzettino di carta con della carta gommata in modo che non si sposti in questo modo riesco ad ottenere una scritta precisa con tutte le lettere uguali una rispetto all'altra cosa che non avrei saputo fare a mano libera una volta scelto il disegno e la decorazione da fare con lo stencil fisso ancora con della carta gommata al legno e riporto il disegno fisso ancora con la carta ecco qui il lavoro come si presenta a questo punto posso cominciare ad accendere il mio pirografo trovo la temperatura giusta rispetto a questo tipo di legno questo è un compensato quindi legno dolce non è necessario a una temperatura molto alta e utilizzo una punta piatta la punta piatta la posso usare sia di piatto di taglio o addirittura come in questo caso capovolta è leggermente inclinata proprio per riuscire ad ottenere il tratto che mi serve grazie a tutti 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 è un lavoro che richiede tempo e pazienza ma alla fine è un risultato molto soddisfacente e speriamo che siano contenti anche le persone che riceveranno queste tavolette decorate a mano grazie a tutti 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 grazie a tutti